Buonasera a tutti, Padre Rettore, Eccellenze e amici della Gregoriana. E' un piacere accogliervi per questa serata che fa parte di questa serie di serate su Fratelli Tutti. L'insieme del ciclo si chiama Fratelli Tutti, il sogno di Dio per un mondo più umano, che è organizzato da diversi dipartamenti della Pontificia Università Gregoriana con la collaborazione della Georgetown University, che ringraziamo per il sostegno. E poi accogliamo anche calorosamente chi segue online. Mi sembra che ci sono più persone online che in presenza, che ormai forse fa parte della realtà che viviamo. L'ultimo capitolo dell'enciclica di Papa Francesco sulla fraternità e l'immercizia sociale, Fratelli Tutti, si ha come titolo «Le religioni al servizio della fraternità nel mondo». E' vero che questo campo della fratellanza, del lavoro per la giustizia sociale, per le relazioni, come diciamo in ebraico il tikkun olam, cioè il fatto di riparare il mondo, è un campo in cui le religioni possono e devono collaborare, è un luogo per eccellenza di collaborazione. E poi, per di più, stasera, dedicata a una prospettiva ebraica sull'enciclica, posso sottolineare il fatto che probabilmente uno dei principi di base dell'enciclica è la dignità della persona umana alle immagini di Dio. E anche c'è tutta una sezione sull'accoglienza al forestiero e questi sono principi che il cristianesimo riceve dalla rivelazione fatta al popolo di Israele, dal Tanakh, dalla Bibbia ebraica e anche da tutta la tradizione ebraica. Dunque, è una gioia accogliere stasera fra di noi il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, un vero romano, se non sbaglio, nato a Roma, vive a Roma. Dunque, Rav Viterbi è insegnante preso il collegio rabbinico italiano e anche direttore dell'insegnamento delle materie ebraiche nelle scuole della comunità ebraica di Roma. Ha anche insegnato qui in Gregoriana, al centro Carinalbea, dunque è un collaboratore e un amico. E dunque siamo lieti di accoglierlo. Cominceremo con la conferenza e poi ci sarà la possibilità di uno scambio su ciò che è stato detto. Rimane qua? Voglio forse venire al centro, no? Ok. Buonasera, grazie dell'invito e grazie dell'occasione. È un po' curioso che nel momento in cui si deve parlare della fratellanza o della vicinanza, poi ci si trova in una condizione concreta invece di distanza. E anche penso il senso un po' paradossale delle parole che sono entrate nel nostro vocabolario negli ultimi due anni. Distanziamento, assembramento. Oppure i termini che usiamo per indicare le piattaforme che ci permettono di a distanza essere vicini. Zoom, che è qualche cosa che ci permette da distanza di vedere a vicino. Zoomare è questo, avvicinare qualcosa che in realtà è lontano. Oppure l'altra piattaforma che è molto usata, che si chiama Meet, che vuol dire incontrarsi. Quindi abbiamo, mi sembra, rideclinato al concetto di vicinanza e lontananza. Papa Francesco ne dedica vari punti della sua enciclica sul tema della comunicazione, di quanto la comunicazione elettronica possa essere. Da una parte un'occasione, dall'altra però anche un rischio di distanziamento. Su questo poi vorrei in qualche modo tornare. Allora io cercherò di presentare, facendo ogni tanto riferimento a alcuni dei punti della enciclica, una prospettiva ebraica su questo tema della fratellanza, della relazione, della solidarietà. E devo dire che, suggerirei per chi avesse interesse di fare un'analisi comparata, un titolo di un libro che ha pubblicato poco prima di mancare il rabbino capo del Commonwealth, Jonathan Sachs, che si intitola in italiano Moralita e in inglese Morality, e che mi sembra che sia incredibilmente convergente nel suo contenuto con la enciclica di Papa Francesco. Direi addirittura in alcuni punti quasi totalmente sovrapponibile. Il sottotitolo in italiano è Ristabilire il bene comune in tempi di divisione. E quindi mi sembra che sia proprio questo. Allora, a chi fosse interessato, il Rav Sachs, in questo libro, non fa tantissimi riferimenti alla tradizione ebraica. È un po' curioso, ma effettivamente è così. Fa moltissimi riferimenti alla cultura filosofica occidentale, alla sociologia, alla psicologia, e ogni tanto fa dei riferimenti a. Però è interessante. Allora, c'è un punto, all'inizio del libro, che mi piace citare, perché secondo me potrebbe essere una doppia chiave di lettura, un filo rosso su cui riflettere. Rav Sachs cita due personaggi che mi sembrano interessanti. Uno è Viktor Fenkel, che è un psicologo che è stato nei campi di sterminio, ha fatto l'esperienza dello sterminio, e anche un, diciamo, è quello che ha sviluppato un metodo che lui chiama logoterapia. E dice così Fenkel l'essere umano è sempre diretto e indirizzato verso qualcosa o qualcuno diverso da se stesso, verso un compito da adempire, un altro essere umano da incontrare, una causa da servire, una persona da amare. Fenkel la chiama autotrascendenza, quindi trascendere se stessi. E come si raggiunge questa autotrascendenza, dice Fenkel? Non preoccupandosi della propria autorealizzazione, ma dimenticando se stessi e dando se stessi, non tenendo conto di se stessi e concentrandosi verso l'esterno. Fenkel nella lettura che ne dà Rauf Sachs quindi sarebbe un sostenitore non tanto della ambizione che è centrata sull'io, quanto della vocazione che invece è una chiamata che viene dall'esterno. È una prospettiva molto interessante, il problema è che bisogna in qualche modo quasi stemperare l'io. Stemperare l'io. Rauf Sachs poco più avanti fa una distinzione tra io e me. Io come soggetto e me come complemento oggetto. E ricorda che ciascuno dovrebbe sapere di essere un io ma soprattutto dovrebbe avere sempre la consapevolezza di essere anche un me, ovvero un complemento oggetto di qualcuno che è al suo esterno. È una operazione molto complicata da mettere in atto. E però sempre nella stessa pagina Rauf Sachs cita Iris Mardoch con una definizione, una descrizione che adesso vi leggerò che lei definisce con una parola inglese unselfing. Unselfing vorrebbe dire in qualche modo uscire da se stessi. Quindi c'è una preposizione negativa prima del sé. E lei la racconta così, è un brano descrittivo che però mi sembra molto molto efficace. Lei racconta questo. Sto guardando fuori dalla mia finestra in uno stato d'animo ansioso e risentito. Dimentico di ciò che mi circonda rimuginando forse su un qualche danno inflitto al mio prestigio. Quindi la prima parte è una fortissima concentrazione su di sé. Poi all'improvviso noto un gheppio, un gheppio, un uccello che svolazza. In un attimo ogni cosa cambia. L'io che rimuginava con la sua vanità ferita è scomparso. Ora non c'è niente altro che il gheppio. E quando torno a pensare all'altra questione questa mi appare meno importante. È una bellissima immagine. Noi forse per cominciare ad aprirci all'altro dovremmo e anche di questo parla Papa Francesco più volte aprirci intanto al mondo. Al mondo anche nelle sue dimensioni direi materiali di cose che ci circondano. Perché se ci abituassimo a unselfizzarci ogni tanto o anzi con una certa frequenza questa unselfizzazione ci consentirebbe forse di aprirci non solamente al mondo che ci circonda ma anche agli altri che ci sono di fronte o accanto o dietro. È un'operazione evidentemente molto molto complessa. Allora io vorrei proporre secondo un metodo diciamo così della tradizione ebraica una serie di tappe fondamentalmente a partire dal testo biblico con alcune diciamo rielaborazioni rabbiniche ma vorrei intanto partire dal testo biblico per diciamo mostrare come questa necessità di da una parte strutturare la propria identità su questo mi sembra che Papa Francesco più volte in vari punti dell'enciclica ritorna ovvero la sottolineatura della necessità di mantenere un'identità un'identità individuale e anche un'identità collettiva ovvero che il principio della fratellanza non può e non deve passare attraverso la negazione della differenza identitaria ma quanto piuttosto dalla collaborazione dalla solidarietà dalla composizione di identità che restano diverse sempre che non siano identità che nella loro diversità vogliono sopraffare evidentemente l'identità altrui ma ecco vorrei un po' mostrare attraverso alcuni esempi biblici abbastanza noti quindi vorrei prendere dei testi che sono sicuramente patrimonio comune anche nella memoria diciamo letteraria di lettura alcuni testi che mi sembra potrebbero essere una chiave possibile della interpretazione che la tradizione ebraica dà del tema fratellanza ma soprattutto del tema dell'apertura all'altro perché faccio questa sottolineatura perché se dobbiamo essere proprio sinceri beh insomma l'immagine della fratellanza o perlomeno dei fratelli nel pentateco in particolare quindi all'inizio della Bibbia non è che sia proprio diciamo così esaltante anzi non lo è proprio per niente perché se andiamo in serie e vediamo tutte le coppie di fratelli beh non è che proprio ci sia una apertura così strepitosa basta partire dalla prima coppia di fratelli che va a finire molto male che in Abele ma poi passando per tutte le altre coppie Ismaele e Isacco Esau e Giacobbe Giuseppe e i suoi fratelli beh insomma forse il parametro della fratellanza come appunto essere fratelli non è che necessariamente ci assicuri l'apertura all'altro forse già questa è una una qualche forma di indicazione di suggerimento è come se ci venisse detto dalla dalla Torah in particolare che insomma una condizione di automatismo fraterno non è necessariamente risolutiva cioè che il tema della fratellanza allora non è essere fratelli diciamo così genetici figli degli stessi genitori ma è piuttosto una modalità di relazione e non una condizione familiare perché dentro la condizione familiare i rapporti fraterni sono decisamente molto molto complessi e quindi direi che l'elemento che mi piacerebbe approfondire è il tema dell'apertura all'altro e in che rapporto questa apertura all'altro è connessa con la costruzione del sé perché per questo mi sembrano dei grandi temi come equilibrare il sé senza arrivare alla diciamo egocentrismo esclusivo e la relazione con l'altro mi sembra che l'ideale non sia evidentemente né quello della concentrazione assoluta ed esclusiva sul sé ma nemmeno sinceramente quello di cancellare il sé per diciamo spersonalizzarsi nella dimensione universale collettiva e anche su questo ripeto Papa Francesco in molti dei punti dell'enciclica ritorna allora la prima questione che in qualche modo è legata alla fraternità mi sembra che sia già intrinseca alla creazione del primo uomo perché se noi andiamo a leggere attentamente la la una delle due narrazioni perlomeno una delle due narrazioni della creazione dell'uomo quella che troviamo nel capitolo 1 della della Genesi è scritto così vaivrai lui metà adam bezzalmo il signore creò l'uomo a sua immagine bezzèle meloim barautò ad immagine del signore lo creò zacharone che va barautà melì creò maschio e femmine allora il verso in realtà ha un'incongruenza abbastanza evidente che è una ripetizione che non sembra sensata il signore creò l'uomo a sua immagine ad immagine il signore lo creò non torna allora i commentatori dicono che in realtà qui si sta dicendo contemporaneamente una cosa e anche un'altra cosa una la seconda è che l'uomo in qualche modo ad immagine di Dio e non entro qui nella question di che cosa possa significare essere ad immagine di Dio ma anche che l'uomo è ad immagine di se stesso cioè il primo la prima parte del verso che dice va ivrai lui metà dan bezzalmo il signore creò l'uomo bezzalmo vuol dire non alla propria immagine quindi relativa al soggetto che è Dio ma alla sua immagine quella dell'uomo quindi esiste un archetipo umano che è l'immagine e che è una sorta di stampo così dice la letteratura rabbinica è uno stampo è lo stampo con il quale l'uomo è fatto e questo è uno stampo identico per tutti è un unico stampo con la particolarità dice la Mishnah e poi il Talmud che a differenza di come funziona l'uomo che quando crea o scusate produce oggetti in serie con uno stampo li fa tutti identici tutti identici la caratteristica di Dio è che usando lo stesso stampo genera invece individui tutti diversi alla questa fonte che poi ripresa nella Mishnah nel trattato che si occupa guarda un po' dei tribunali della procedura penale mi sembra che dica qualcosa di assolutamente importante perché dice contemporaneamente contestualmente la irriducibilità di ciascuno e ciascun altro perché lo stampo crea tutti individui diversi ma d'altra parte che lo stampo è identico per tutti e quindi mi sembra che ci stia proprio dicendo quello che è uno dei punti che sottolineavo ovvero la integrazione tra l'individualità irriducibile ma anche la condivisione si condivide lo stesso stampo pur essendo tutti diversi e nel Talmud sempre nella pagina che si occupa di analizzare questo verso viene detta un'altra un'altra viene fatta un'altra proposta che direi per certi versi sembrerebbe molto banale ma che poi tanto banale non è ovvero la domanda è ma per quale ragione Dio ha dovuto creare l'umanità da un uomo solo da un essere umano solo noi lo diamo ovviamente per scontato perché nella nostra memoria letteraria o di credenti la storia ci racconta che Dio ha creato un uomo solo ma in realtà non ha molta logica questo Dio se è onnipotente avrebbe potuto creare direttamente un'umanità perché non crea 7 miliardi di persone in un attimo e ne crea una sola la crea perché dice la Mishnah ripresa dal Talmud nessuno possa sostenere che il suo nonno il suo padre il suo antenato era più grande dell'antenato di un altro perché se tutti discendiamo da un solo essere umano necessariamente non solamente spartiamo questa identità ma non possiamo avere una pretesa di superare nei confronti di nessun altro cosa che invece avrebbe potuto essere se Dio invece di creare una persona sola ne avesse create tante quindi questo è già un punto mi pare mi pare un punto che ci introduce alla necessità della condivisione di un tratto comune uno stampo e d'altra parte la riaffermazione della individualità è interessante se voi ci pensate salto ritornerò a altri episodi in mezzo ma salto un episodio che secondo me è il reciproco di questa storia iniziale e che è la storia della torre di Babele perché la storia della torre di Babele che cosa ci suggerisce ci suggerisce la seguente idea ci suggerisce che c'è un'umanità apparentemente concorde il testo in questo senso è direi molto molto evidente dice il il testo scusate che arrivo subito tutta la terra aveva o era caratterizzata da un'unica lingua e dalle stesse parole anche qui abbiamo un'altra volta una ripetizione che non si capisce bene che cosa vuol dire allora la tradizione esegetica ci dice che non era solamente una questione di monolinguismo ma era una questione ideologica tutti avevano la stessa idea quindi da un certo punto di vista sembrerebbe la ricomposizione ideale di quello che era il progetto Dio ha creato un uomo solo e qui abbiamo un'umanità che oramai è molteplice ma che è stessa lingua e stesso pensiero il problema è che questa stessa lingua e questo stesso pensiero ovvero questo meccanismo omologante non è per niente foriero e portatore di una di una fratellanza Papa Francesco lo dice dice che proprio nel capitolo dedicato all'apporto delle religioni la fratellanza funziona o è un meccanismo su cui si deve lavorare nel momento in cui c'è però diciamo un riconoscimento di un principio superiore all'uomo lo dice nella mi sembra proposizione 282 se non sbaglio in cui lui dice forse prima scusate un attimo ecco la 273 in questa prospettiva desidero ricordare un testo memorabile rimanda a una enciclica di Giovanni Paolo II se non esiste una verità trascendente obbedendo alla quale l'uomo acquisisce la sua piena identità allora non esiste nessun principio sicuro che garantisca giusti rapporti tra gli uomini il loro interesse di classe di gruppo di nazione li oppone inevitabilmente gli uni agli altri allora che cosa succede in realtà nella Torre di Babela la Torre di Babela sembra in qualche modo negare questo principio trascendente perché è chiaro che quando l'uomo ha la idea un po' balzana di arrivare al cielo il Midrash quindi la letteratura rabbinica rielabora questo la tradizione esegetica suggerisce che uno degli obiettivi fosse quello di mettere una statua sulla cima della torre con una spada a sfida della dimensione divina quindi vuol dire la negazione di un principio trascendente perché se esiste una statua con la spada che può apparentemente combattere il principio trascendente che è Dio vuol dire che il principio trascendente è per definizione negato e tra l'altro questa negazione è anche significata da un altro fatto proprio dalla torre stessa perché perché costruiscono una torre la torre la costruiscono secondo una tradizione interpretativa semplicemente perché dicono abbiamo capito che ogni x anni c'è un diluvio e qual è il modo migliore per salvarsi dal diluvio semplicemente andando in alto se io faccio una torre che è più alta di dove arriva l'acqua io mi salvo piccolo problema Dio aveva promesso che non avrebbe mai più mandato un diluvio quindi il fatto stesso di costruire una torre è una evidente espressione di sfiducia che è la negazione del principio trascendente allora quando è negato il principio trascendente il meccanismo di unità umana non funziona o comunque non è un principio di fratellanza oggettiva quanto piuttosto un principio direi così di delirio di onnipotenza per cui l'uomo pensa di sostituirsi a Dio arrivare lì farsi un nome così dicono e allora che cosa accade accade che l'intervento di Dio è un intervento da una parte sembrerebbe punitivo ma dall'altra anche salvifico che cosa fa confonde le lingue perché forse sta dicendo bisogna passare per la differenza per ricostruire un'umanità che sia realmente diciamo fraterna e collaborativa nel momento in cui c'è omologazione questo è il termine che più volte ritorna come questione critica nella lettera in cicla di Francesco di Papa Francesco nel momento in cui c'è omologazione questo meccanismo di solidarietà o di fraternità non c'è perché l'omologazione bisogna pure essere chiari e sinceri è un'omologazione che in generale non è per niente volontaria ma è un'omologazione che è coatta costretta nessuno si omologa o si omologa per apparente scelta individuale ma probabilmente non lo fa oppure è costretta a farlo quindi mi sembra che il messaggio sia bisogna passare per la differenza per ricostruire o ricostituire una diciamo capacità di cammino solidale che non sia omologato omologante e guardate è molto interessante che c'è una profezia nel profeta Stefania Sofonia è uno dei dodici profeti minori che ha tre capitoli in tutto e nel terzo capitolo di Sofonia al verso nove in una visione escatologico messianica viene detto questo perché io allora in quel momento è Dio che parla riverserò sui popoli una lingua chiara Safa Berura non è più una unica lingua è molto diverso l'unica lingua da una lingua chiara allora nel tempo finale Dio riverserà su tutti i popoli una lingua chiara in maniera che tutti possano invocare il nome del Signore il riconoscimento del principio trascendente di cui parla Papa Francesco per servirlo ad un'unica spalla si potrebbe tradurre così o spalla spalla interessante questa immagine immagine esattamente il il riaggiustamento direi per usare una una parola che è stata nell'introduzione usata il ticcuno il riaggiustamento della della torre di Babele qui non c'è bisogno di una unica lingua la parola è la stessa è Safa diceva Genesi qui è detto Safa Berura la lingua non ci sono più le stesse parole perché le parole possono essere anche diverse le parole in ebreco e anche davar che sono cose quindi vorrebbe dire che non solamente le parole sono diverse ma forse anche il modo di vedere le cose può essere diverso l'importante è che ci sia una capacità di comunicazione che però non è omologata e questa Safa Berura mi sembra che sia proprio questo la chiarezza di una lingua che vuol dire anche che ciascuno deve essere in grado di chiaramente dire qual è la sua identità e questo non impedisce di leovdo servire Dio Shechem Echad spalla a spalla o addirittura si potrebbe tradurre con un'unica spalla che vuol dire portare qualche cosa insieme è proprio il ribaltamento a me sembra che una riflessione su questi due punti Genesi creazione dell'uomo e Babele approfondisca questa o riconfermi più che approfondisca riconfermi questa necessità della integrazione tra molteplicità e unità universale i due concetti non sono in contraddizione tra di loro non devono essere in contraddizione tra di loro questo mi sembra il principio che è un principio assolutamente cardine della tradizione ebraica e allora per dimostrare sempre questo principio e dunque l'apertura all'altro vorrei fare qualche altro passaggio di episodi allora chiamiamoli casi allora un caso è il caso di Abramo Abramo proprio mi sembra prototipale in questa in questa storia e segnalerei su questo due o tre episodi che lo vedono protagonista allora il primo episodio è proprio la chiamata in questo senso veramente si può ricondurre quello che la Torah dice a ciò che dice Frenkel quando distingue tra ambizione e vocazione ambizione è egocentrata e vocazione è eterocentrata allora se andiamo a vedere in che modo avviene questa chiamata beh questo è proprio mi sembra il punto il testo in Genesi dice così il Signore disse ad Abramo verso una terra che io ti indicherò ti renderò un grande popolo ti benedirò farò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione benedirò chi ti benedisce maledirò chi ti maledisce e saranno benedette in te tutte le famiglie della terra allora il movimento qui è proprio centripeto centrifugo e da che cosa vediamo che il primo movimento è centripeto cioè che va verso il centro verso il sé che il il verbo andare all'imperativo è lech vai e qui però è seguito da la preposizione le ha con il suffisso personale di seconda persona quindi se io dovessi tradurre letteralmente il comando di Dio che è una vocazione non è Abramo che è concentrato su se stesso noi di Abramo sappiamo veramente molto poco dai versi precedenti che sono i versi finali del capitolo undici di Genesi è semplicemente una una tappa una pedina della genealogia che da Adamo è passato per Noè e da Noè arriva ad Abramo questo sappiamo molto di più non sappiamo non sappiamo mica dal testo per quale ragione Dio chiami proprio Abramo e non chiami qualcun altro il testo lo tace completamente quindi dobbiamo proprio immaginarla come una vocazione esterna quindi qualcosa che dall'esterno viene una il contrario di un'ambizione non c'è un'ambizione in Abramo quanto piuttosto la risposta ad una chiamata ma in questa chiamata che viene dall'esterno è anche necessario una chiarificazione della propria identità ecco perché il primo movimento che Abramo deve fare è andare verso di sé e poi andare verso l'esterno lech lecha vai a te e poi vattene via muoviti allargati potremmo dire potremmo dire così quindi mi pare che nell'incipit di quella che è la storia del popolo di Israele ma di tutti quelli che si riconoscono nell'origine di Abramo Avraham c'è questa necessità di consapevolezza del sé o chiarificazione del sé e d'altra parte questo movimento verso l'esterno che è sintetizzato in maniera mi sembra molto molto chiara dal terzo verso in cui è detto saranno benedette in te tutte le famiglie della terra quindi la questione non è evidentemente autoreferenziale Abramo non è un ambizioso quindi la sua scelta non è il risultato di un'ambizione quanto piuttosto di una risposta una chiamata e questa chiamata è una chiamata in cui si equilibrano e si relazionano tra di loro il movimento verso sé di chiarificazione e il movimento verso l'esterno che diventa una benedizione non per Abramo anche per Abramo ma poi per tutte le famiglie della terra e in effetti il verso 4 poi comincia dicendo Abramo andò se uno non va se uno non si muove e resta chiuso nel proprio nel proprio io la la possibilità di entrare in relazione con l'altro e anche di comunicare con l'altro non è possibile per comunicare bisogna in un certo senso muoversi la tradizione rabbinica l'esegesi rabbinica fa questo esempio propone questa similitudine una boccetta di profumo se sta ferme in un posto in realtà fa sentire il suo profumo solamente in quel luogo solamente se la si muove aperta potrà espandere il suo profumo quindi la necessità del movimento quindi andare verso i fuori verso l'altro per entrare in comunicazione e far conoscere un pensiero un'idea una visione che è quello che Abramo poi farà in questa prospettiva io però citerei nella direzione della fraternità della solidarità della solidarità dell'apertura a chi viene da fuori dell'apertura allo straniero dell'apertura all'altro che è un altro dei grandi temi su cui ritorna Papa Francesco nell'enciclica due episodi tra i tanti che si possono citare il primo è quello che ci racconta la annunciazione della nascita di Isacco vi leggo il punto che mi sembra interessante la pericope settimanale quindi l'elettura settimanale comincia con questo verso il Signore gli apparve nel querceto di Mamre e lui Abramo era seduto alla porta della tenda nel momento più caldo della giornata ora in realtà nella traduzione letterale si dovrebbe fare qualche correzione a questa traduzione che ho proposto solamente che in italiano viene fuori molto strana la direi così egli apparve il Signore nel querceto di un re e lui siede alla porta della tenda come se fosse il momento caldo della giornata e che vorrà dire la esegesi rabbinica suggerisce queste riflessioni Abramo che cosa ci sta facendo lì sulla porta della tenda insomma non è è un uomo molto anziano alla fine del capitolo precedente è stato raccontato che si è circonciso quindi abbiamo un vecchione centenario diciamo così convalescente potremmo definirlo così un convalescente centenario non è proprio il luogo più logico dove stare un centenario convalescente oggi sarebbe che ne so insomma o in casa o nel letto o in clinica se ha la possibilità di stare in clinica lui sta alla porta della tenda e tra l'altro ci sta il momento più caldo della giornata quindi qualcosa che è totalmente illogico non si capisce ci avrebbe tutti i motivi per stare dentro al fresco no sta alla porta della tenda al caldo la tradizione dice che Abramo è lì perché aspetta i viandanti cioè ha una tale necessità di ospitare viandanti che sono l'altro per eccellenza i viandanti sono totalmente sconosciuti che nonostante sia vecchio e convalescente li aspetta aspetta Dio si rende conto e allora che cosa fa? Fa venire un caldo terrificante per questo è scritto come se fosse il momento più caldo della giornata perché non era il momento più caldo della giornata ma Dio ha tirato fuori così in un'immagine poetica dice la tradizione esegetica il sole dal suo astuccio e va fatto venire un caldo terrificante perché aveva fatto questo? Per convincere Abramo che con un caldo del genere nessun viandante sarebbe arrivato e che quindi poteva tranquillamente ritirarsi al fresco è interessante perché se dobbiamo usare due caratteristiche che nella proposizione di 184 e quella 203 Papa Francesco usa è come se ci fosse una sorta diciamo gentilezza tenerezza di Dio nei confronti di Abramo in questo momento cioè Dio sa bene che Abramo è smanioso di ospitare ma vorrebbe che come un centenario convalescente stesse al riparo e Abramo invece non si sposta da lì nonostante il caldo attenzione Dio non è che pensa sentirà troppo caldo e entrerà ma pensa Abramo si renderà conto che con un caldo del genere nessun viandante gire e che quindi non ci saranno viandanti nonostante questo Abramo resta lì resta lì in attesa di viandanti e a quel punto Dio manda dei viandanti li manda perché sarà l'unico modo per diciamo indurre Abramo a auto diciamo proteggersi e in effetti subito dopo viene detto e alzò gli occhi e vide ed ecco c'erano tre uomini che stavano vicino a lui cosa fa? li vide corse è sempre lo stesso centenario convalescente non è cambiato è diventato improvvisamente un giovinetto corse verso di loro dalla porta della tenda e si prostrò a terra e poi disse signori miei se io ho trovato grazie ai vostri occhi non oltrepassate il vostro servo venga preso un po' d'acqua lavatevi i piedi e riposatevi sotto l'albero e io prenderò una pagnotta e voi vi rifocillerete e dopo potrete andare avanti per questo motivo siete passati presso il vostro servo e loro risposero fai così come hai detto e allora Abramo si affrettò alla tenda sempre lo stesso centenario verso Sara e disse sbrigati eppure Sara non era una giovinetta e sbrigati impasta tre se ha di fior di farina e fai delle torte e poi corse al greggio e prese un animale tenero e lo diete a un suo inserviente e lo sollecitò a velocemente prepararlo e poi prese formaggio o burro e latte e il capretto che aveva preparato e lo presentò di fronte a loro allora abbiamo uno spaccato della personalità di Abramo qui la diciamo spasmodica apertura verso l'altro sono degli totali sconosciuti noi lettori con la memoria della lettura precedente diciamo sono angeli ma il testo mica ce lo consente il testo dice erano tre uomini e questo significa che agli occhi di Abramo questo erano quindi lui non è che ha fatto tutto questo tipo di azioni così sollecite così veloci così dedite all'altro perché pensava che fossero angeli non lo pensava proprio per niente anzi direi di più la successione del primo e del secondo verso di questo episodio ci dice questo che prima appare Dio ad Abramo e poi arrivano i tre uomini allora la tradizione esegetica suggerisce qualcosa che sembra quasi ridicolo ovvero il fatto che Abramo dice a Dio aspetta qui vado ad occuparmi dei viandanti e proprio questo perché i due versi se si leggono attentamente devono funzionare per forza così il Signore gli apparve alzò gli occhi e vide i tre uomini non possiamo immaginare che l'apparizione dei tre uomini coincida con la rivelazione di Dio vuol dire che sono due azioni diverse mentre era oggetto di questa rivelazione di questa apparizione divina vede gli uomini e tant'è che una volta che gli uomini sono andati via lui ritorna e Dio pazientemente ha aspettato Abramo quindi è diciamo così un meccanismo mi pare che ci indica quanto Abramo sia aperto agli altri dedito agli altri solidale nel senso che percepisce le necessità e che attivamente agisce per soddisfare la necessità di quel momento del viandante che allora gli compare a casa secondo la tradizione rabbinica la tenda di Abramo aveva una porta per ogni lato che è un modo per indicare da ovunque tu venga c'è un'entrata questo è il tema delle no le migrazioni le migrazioni di cui parla Papa Francesco l'accoglienza ecco mi sembra che questo modello di Abramo sia di iperaccoglienza e tra l'altro un'iperaccoglienza che non fa mi sembra differenza identitaria perché la tradizione esegetica dice che l'aspetto esteriore di questi tre uomini era aspetto di Arabi adesso dobbiamo capire cosa significhi aspetto di Arabi al tempo di Abramo ma non è che molto importante capire etnicamente la cosa che la tradizione esegetica sottolinea che etnicamente è qualcuno che non ha a che vedere particolarmente con Abramo è diciamo così tra virgolette uno straniero rispetto alla identità di Abramo eppure è assolutamente pronto sollecito ma molto sollecito quindi mi sembra che ci dica che la la propensione verso l'altro è un apertura verso l'altro quale che sia il suo aspetto che è a 360 gradi e che significa non solamente insomma essere ospitali ma che ospitalità vuol dire un'azione che va ben oltre il fatto adesso avrebbe potuto tranquillamente dire va bene vi porto un po' d'acqua fermatevi riposatevi un po' e poi andate avanti e invece lui apparentemente dice questo venga preso un po' d'acqua rifocillatevi un po' e poi andate avanti dopodiché prepara di fatto un banchetto cioè prepara molto più di quello che era l'esigenza base dei viandanti è un modello da questo punto di vista ripeto ripercorrendo attraverso questo questa chiave di lettura ciò che dice Papa Francesco nella Fratelli Tutti mi sembra che siamo nella linea di questa apertura di questa disponibilità all'altro ma andrei oltre prendendo un altro episodio che è quello poco successivo perché una volta che uno di questi tre ha annunciato che entro l'anno gli nascerà un figlio abbiamo l'episodio che il cui incipit è il seguente loro se ne vanno vanno verso Sodoma e Abramo li accompagna dopodiché il Signore disse a me chasse anime avramma c'era nio se posso io nascondere ad Abramo quello che sto per fare che è un'altra barzelletta no? che vuol dire posso nascondere certo che puoi nascondere e che per caso Dio deve per forza comunicare quello che intende fare a chi che sia e Abramo sarà un grande popolo saranno benedette in lui tutte le genti della terra quindi è legato alla vocazione quindi io non posso nascondere ad Abramo quello che sto per fare che è la volontà di distruggere Sodoma e Gomorra adesso lo vedremo in virtù del fatto che lui sarà un grande popolo in cui tutte le genti saranno benedette il che vuol dire che fammi fare un test diciamo così voglio vedere io non glielo nascondo non perché io non possa nasconderlo ma voglio vedere un po' quale sarà la reazione di Abramo perché io l'ho va avanti il testo l'ho conosciuto l'ho riconosciuto l'ho scelto affinché comandi ai suoi figli e alla casa dopo di lui di osservare la strada del Signore nel fare giustizia e diritto quindi questo è il motivo vediamo un po' come si comporta Abramo e a questo punto Dio comunica ad Abramo quello che intende fare ovvero che gli è giunta è giunto fino a lui il grido di Sodoma e la peccaminosità degli abitanti di questa città e vuol vedere se le cose stanno esattamente come ha percepito ora Sodoma gli abitanti di Sodoma erano diciamo almeno da come ce li racconta il testo erano malvagi quindi anche la disponibilità di Abramo nel primo episodio era rispetto ai viandanti agli sconosciuti adesso lui si impegna ancora una volta effettivamente a favore di chi è in maniera conclamata malvagio non che debba essere dimostrato che è malvagio non sappiamo uno dei motivi secondo la tradizione è che erano poco ospitali che non ospitavano questa è la loro malvagità insomma sono cattive persone non c'ha nessun rapporto di parentela sì è vero che c'è suo nipote che vive lì ma insomma il nipote avrebbe potuto ugualmente salvarsi invece lui che cosa fa? fa una trattativa che non è la cosa più normale che ci verrebbe in mente di fare Dio mi dice guarda che io farò questo e cominciamo una trattativa una trattativa serrata se ci sono 50 giusti in quella città salvi attenzione non salvi i giusti ma salvi la città in virtù del fatto che ci siano quei giusti e ci sono 45 40 fino a 10 la richiesta di Abramo non è quella di salvare le brave persone ma è quella di se ci sono brave persone bisogna salvare anche quelle che brave non sono e forse la logica è se ci sono delle brave persone in un posto queste brave persone secondo un meccanismo appunto solidale in qualche modo intervengono nei confronti di quelle che anche brave non sono l'apertura qui di Abramo nei confronti dell'altro mi sembra ancora maggiore di quanto non sia già evidente nell'episodio dell'annunciazione della nascita di Isacco cioè ma chi te lo fa fare ma ma chi c'è qualche vantaggio no c'è qualche relazione no non c'è nessun motivo ragionevole per cui Abramo si mette a discutere con Dio ripeto non con il primo passante di turno ma con Dio allora lui è pronto a discutere con Dio in una maniera con una diciamo retorica molto raffinata non banale è pronto a discutere con Dio per salvare una collettività una comunità delle città che in realtà tecnicamente non meriterebbero di essere salvate pensa che potrebbero essere salvate solamente se c'è qualcuno che svolge questa funzione di giusto se ci sono questi giusti i giusti riescono a salvare allora mi pare che il modello Abramo in questo senso sia esattamente nella tematica della a questo punto ripeto non userei il termine fratellanza quanto dell'apertura della solidarietà della dedizione dell'accoglienza dell'impegno nei confronti degli altri perché nel caso dei tre angeli ha accolto in casa sua qui va oltre non è una questione di accoglienza ma è di intervento fattivo a favore di altri che sono mi sembra le linee su cui si sviluppa una buona parte della lettera enciclica di ancora un po' qualche qualche minuto ancora va bene poco poco se un altro caso interessante potrebbe essere il caso di Rebecca se andate a leggere l'episodio di Rebecca che sposerà il figlio di Abramo Isacco ebbene Rebecca viene scelta in maniera molto macchinosa cioè Abramo che manda nella regione da cui lui è venuto il suo amministratore Eliezer e questo Eliezer va ma non è che sa bene come scegliere e allora oggi diremo si fa un film in testa e quale film si fa se io sto qui e alla ragazza a cui io domano all'attingitrice d'acqua a cui domanderò dammi da bere mi darà da bere e darà da bere anche i miei cammelli questo è il segno che tu hai scelto questa donna per il figlio del mio padrone e in effetti appena ha finito questo film in testa compare una bambina piccola che dà da bere a Eliezer e con gli stessi verbi che sono stati usati per indicare come agisce Abramo che corre di qua e di là lei corre attinge ricorre e fa bere i cammelli che naturalmente sono dei gran bevitori quindi per una persona come Rebecca che è una giovane e con la collocazione della fonte più in basso è una grande fatica e Eliezer per lei è totalmente uno straniero lei quando lo incontra esattamente come Abramo non sa che i tre uomini che gli compaiono sono tre angeli Rebecca quando vede quest'uomo lo vede semplicemente come uno sconosciuto uno straniero uno che vede da un'altra parte e non ha la minima idea che sia in qualche modo connesso con Abramo di cui lei è bisnipote perché il suo nonno è il fratello di Abramo non lo sa quindi la moglie di Isacco dovrà avere quelle caratteristiche che abbiamo visto essere essenziali in Abramo e quindi vuol dire che sarà un po' la immagine della prosecuzione questa sembrerebbe essere la linea rossa allora mi sembra che voglio solo per fare due ultime due brevissime osservazioni e poi finisco mi sembra che anche semplicemente facendo riferimento a questi arcinoti episodi biblici nella ottica di una lettura che integra il testo scritto con la tradizione orale quindi esegesi abbiamo un modello che ripeto è Abramo dunque quello da cui tutto inizia che corrisponde ad una modalità di apertura di dedizione di solidarietà e di impegno concreto e fattivo e di una non concentrazione su se stesso è un unselfer direi Abramo va bene un unselfer che risponde che risponde alla chiamata e allora se dovessi citare un altro brano diciamo rabbinico noto di un maestro il Lel che è citato da Paolo Francesco per un'altra fonte ma il Lel che è vissuto a cavallo insomma tra l'ultimo secolo dell'era prima pre-cristiana nel primo secolo dell'era cristiana ha un insegnamento che è molto 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 noto molto molto citato che dice questo se io non sono per me chi è per me o dette in altri termini è la stessa preposizione che viene usata in lecha vai verso di te quindi io potrei tradurre così se io non vado verso di me quindi se io non riesco identificarmi se io non riesco a costruire la mia identità nessun altro lo può fare non c'è un altro che può svolgere il compito di definizione identitaria mia per mio conto e questo è vero per l'individuo per le collettività per i gruppi non c'è altro che mi possa definire sono io che mi devo autodefinire un'autodefinizione esterna non sarebbe una definizione esterna non sarebbe un'autodefinizione quindi sarebbe una definizione imposta sì quindi è come se lei dicesse il primo passo è bisogna sapere chi siamo bisogna cercare di capire che ci stiamo a fare qui qual è il senso questo è ciò che dice Papa Francesco quello che dice Viktor Frankl avere una vita significativa e la vita significativa non può essere però concentrata solamente su se stessi è necessario che il significato della propria esistenza sia legato alla propria identità i maestri di una certa corrente ebraica del secondo settecento che si chiama Musar dicono che quello che il senso della tua vita in ogni istante lo puoi svolgere solamente tu nessun altro ma in ogni momento non nella vita complessivamente ma in ciascun momento della tua vita in ciascun secondo quello che devi fare lo puoi fare solamente tu se non lo fai nessun altro lo potrà fare quindi questo è il primo punto la seconda parte del disegnamento di Hillel è ukshanile atzmi quando io sono solamente per me stesso e etzem vuol dire osso atzmout vuol dire indipendenza quando io sono troppo indipendente la tradurrei così quando io sono eccessivamente autoriflesso e quindi penso di essere totalmente indipendente senza relazioni ma Ani cosa sono io? non è la domanda non chi sono io ma cosa sono io è come se stesse dicendo Hillel che se tu se l'individuo è troppo concentrato su se stesso è si reifica non è più non è più un individuo non è più una persona scivola verso l'essere una cosa se non adesso quando c'è una certa urgenza è quello che fa Abramo bisogna affrettarsi allora ecco mi sembra qui concludo veramente l'ho già promesso due volte quindi poi uno promette non mantiene pare brutto e mi sembra che insomma ci sia ci sia molto materiale su cui riflettere ce ne potrebbe essere evidentemente anche molto altro ma mi sembra che ci siano delle evidenti e forti convergenze rispetto a quello che Papa Francesco nella sua enciclica dice in relazione a questo tema che ripeto con una certa cautela userei la fratellanza mi sembra meglio dire l'apertura e la disponibilità nei confronti degli altri grazie grazie